Ma che è una squadra forte, lo sanno tutti, che sa giocare a calcio lo deve fare per me, non deve avere pause. Io oggi vedo ancora che a giocare la palla in certo modo ancora è uno sforzo, perciò spero che col tempo sia un'abitudine, una normalità giocare. Perciò meno pause durante la partita, meno ridurre la mortalità dei passaggi sbagliati e poi credo che la squadra sia forte, lo sappiamo tutti. Sì, passano avanti, grande passo in avanti contro una squadra più forte, magari forse lei c'è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso, ma la squadra è grande squadra, mi ha fatto un figurone per me, ha tratti un figurone e perciò grande passo avanti, ma ho detto che deve essere un'abitudine a giocare, a volte abbiamo la frenesia, buttiamo palla, per me la palla va data in avanti nel momento che creiamo noi per giocarla in avanti, ma ci arriviamo perché comunque per quanto abbia lavorato siamo a un buon punto. No, è buono, è buono, tutti si applicano, tutti cercano di fare le cose giuste, poi c'è la giornata un po' migliore di qualcuno, un po' sotto tono di un altro, però sono contento. Abbiamo lavorato tanto, le gambe sono un po' imballate, però tutti si stanno applicando e tutti cercano di ritagliarsi dello spazio. Mister, oggi non è stato convocato Brighenti, lo considera incedibile perché piace all'Ascoli? Allora, io credo che ci sono due o tre situazioni a Frosinone che vanno risolte in fretta, lo sanno tutti, io spero che in due giorni risolviamo ogni problema, chi vuole stare a Frosinone sta a Frosinone, chi non vuole stare a Frosinone gli stringiamo la mano perché ognuno ha le proprie ambizioni e le proprie cose, non è una colpa, io dico che però bisogna, adesso bisogna o dentro o fuori, perché adesso fra un po' siamo in campo ci giochiamo qualcosa. Credo che questi ragazzi che in questo momento stanno in questa situazione sono ragazzi a posto, bravissimi ragazzi, spero che rimangano, però poi se troverà un accordo con la società o loro hanno altre ambizioni, ci stringiamo la mano e vanno, però adesso è ora di decidere.